La parola Pasqua vuol dire passaggio, passaggio dalla morte alla vita, passaggio da una situazione difficile come era la schiavitù per gli ebrei a una situazione di libertà. Allora, ecco, questo è il mio augurio, che le persone veramente possano fare un passaggio nel bene, che anche con l'aiuto della fede, tutti quanti, anche la nostra società, possa fare davvero un passo avanti nel bene. Questo è un augurio che faccio a tutti, anche a chi non credono, perché l'impegno umano per costruire nel bene sono convinto che possa toccare il cuore di tutti. Buona Pasqua.